. 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 che ti salano da diventare obeso ci stai più lontano ora per finiremo questo e ci facciamo la teglia che è qua vicino ok però dovrebbero fare che si... cioè io non capisco che ancora mi hanno fatto che si possono scambiare tipo le... quelle termiti, mine, no, no eh dovrebbero fare c'è il rumore di casca, c'è un posto sempre gesto nato dobbiamo fare questa taglia all'ospedale andiamo diciamo mandiamolo al campo santo 10 dollari quando si... minchia parecchio come una minchia di mare, oh ripigati minchia amici dada che cazzo dove? ma sono caduta smiridone amici sono lì? mi sono sopra, semmeno l'indicato guarda tu sai un po' vaga come direzione non so mi è scatto no vaschi posso fucire dopo il salario un po' attenzione a fondo per te io che un po' le piastre ti vuoi 500? no no no, non c'è ok minchia non lo sapevo uno giù uno giù uno giù e la termite mi ha ucciso com'è che ha ucciso me e non ha ucciso lui? è morto pure tu si vorrei capire vorrei capire com'è che la termite ha ucciso me e non lui fottiti fottiti vai com'è che un po' ritorniamo minchia mi ha mandato in culo al mondo potrei andare alle prigioni con po' e che dobbiamo fare? tanto almeno siamo no io sono alle quattro torre tanto non ci sarà andato nessuno infatti è libero ho trovato cassa piastro ha attaccato il grado cioè ho trovato scusami la sacca ho visto chi ho trovato anche l'altra torre non riesco alla capa perchè c'è silenzio la torre l'altra torre la compa c'erano c'erano piastre qua mi pare libero è strano che la piergine siano completamente libero qua qua è tutto libero qua c'è le plombe e noi che cosa ti direi? prendiamo l'ericottero e ci andiamo a mettere alle quattro torre ci stiamo là che dici? occhio vuole un msci io ho passato una mina sopra prendiamo l'ericottero si e ci mettiamo alle quattro torre dai sei vieni si buttano dove siamo? torre torre è lì ci pensi di vai che non c'è la che pagina viene all'ericottero vai 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 , tra le mani maschi fuori qua non c'è negozi giusto caso possiamo andarrerci a farlo scappato uno secondario il ricotto è che l'ericottero ciò Non ci punta Ma dai Non eri giù con me Sì ma non c'era lui E com'è che hanno ammazzato Che era giù con noi E che cazzo bu Che morta minchia E' un po' io Cerco di andare Poi ti invito Salire per dire l'elicottero è sopra Salire alla scala Bu non l'ho capita Questa cosa onestamente Ok Grazie Vado lì Già vedi che è morta a minchia che ho fatto Per uno che è arrivato là senza motivo Fa un po' a prendere le cose E' un po' a prendere le cose E' un po' a prendere le cose La clamor qua La clamor qua La clamor qua La clamor qua No la clamor con po' mettila La clamor cerca di metterla sopra le scale No qui Ho chiedo tutto con po' Sì sto salendo La clamor Guarda dove la devi mettere Mettila qua sopra Allora è finito Sta facendo concerto E' un tamburello Già partita pazza Un po' Non ha fatto senso tutto quello che abbiamo fatto Già la taglia lì Sì è dentro Il barracchino Vediamo se è buono Chi sa Eccolo Pinga pinga E' morto E' morto Non l'abbiamo Ci sa Sì c'è uno lì Ostile in discesa controllo In cielo Eccolo vedo E' caduto Stava salendo sull'elicottero Ma come ho avuto di sotto Abbiamo avuto culo Che ti serve a cuocciare una piastra Hanno preso la clamor La clamor sotto La clamor sotto hanno preso Ok controllo la scala Non è morto però No ma glielavo sotto la piastra Ah sto sentendo Tu hai il rifornimento? Sì Chiassa ti compa Cambiamo torre Andiamo a quello che ho pingato lì Sali 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 Fai Compa dobbiamo levare l'elicottero di qua Fa una cosa Compa lo prendi Vai in aria e lo lanci Ok Per forza Cerca di ritornare Vanno fare carrile Vanno fare carrile Vai lancialo Non possiamo rischiare di tenercelo qua Lo so Quanto ormai quello che doveva fare L'ha fatta Io ho messo una doppia scena di clamor un po' Molti di sti figli Li buttano Saranno giù Siamo ancora in safe Vanno fare ci uccisioni possibili Un po' La torre lì è Perfetto Ora le torre c'è e sbologniamo tutte perché Vengono assorbite da gas Do un'occhiata alle clamor Mi scanto se qualcuno ha qualche abilità che le può disattivare Deve salire le scale Non posso disattivarle Certo la scala da satira Non la posso disattivare Mentre sono sulla scala Non la posso disattivare Minchia che è un po' Che è partita Questa è la giusta Non è stata partita Sì sì Questa è la chiusura perfetta Continuiamo da qui perché Dobbiamo pure considerare Ma non è finito il rilassato Dobbiamo pure considerare Che potrebbero essere sotto di noi Ma dove vengia fanno tutti Si stanno ammazzando C'è il cavo che si sale C'è una mina L'entrava davanti al cavo Infatti ne li sto sparando Lo sto lasciando là È una mina tua? No Una mina nemica Nel cavo nemico Cioè nel cavo È il 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 cavo Ci incappiamo No Per sbagli Involantanamente Sento sparare col cecchino Sei stato tu? No Stando cecchinando Vedi È stando cecchinando Dal cavo Compari rimaniamo sul muro Pronto? Controlliamo subito dietro Aspetta 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 Fai il gas Lui Fai veloce Sono due giocatori compa Saranno giù Guarda dove sono L'ultimo stronzo manca Sopra 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 Le mazze Compa Grandissimo Grandissimo Minchia partitona Minchia dopo una serata di Insoddisfazione Suspra Sopra 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 Non male che ho messo lo stream stasera Ti faccio una fotografia compa Sopra Sopra Ancana ti c'è la peretà La perdiamo Sopra 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 non bene di più non bene di più